Non è quel che si dice in buone condizioni, però... visto che ve ne intendete... Vediamo, potreste pagarmelo un tanto a viaggio, se riuscite a farlo andare. E senza anticipo. Perché? Pensavate di darmi un anticipo? No, no, come non detto... Tu che ne pensi? Beh, io penso che... Io penso che non volerà mai. Bene, affare fatto.